Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per traffico tra Sassomarconi e BV1 variante in direzione sud. Possibili disagi in FIPILI tra la Strassigna e Firenze Scandicci per traffico intenso. Sempre in FIPILI per lavori alla pavimentazione stradale, quest'oggi fino alle 20 segnaliamo la chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Livorno Porto in direzione Firenze. Per il traffico ferroviario a causa della presenza di un ostacolo sulla linea, segnaliamo ritardi compresi tra i 20 e i 58 minuti per tre treni regionali sulla linea Pisa-La Spezia. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, Alvia in settimana, tra l'altro, lavori alla rete del gas in via della Torre e interventi sui chiusini in via Gioberti. Previsti provvedimenti di mobilità. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!